La settima commissione trasparenza del comune di Caltanissetta esprime ferma condanna e piena solidarietà al sindaco Gambino per le gravi minacce e intimidazioni ricevute tramite messaggio postato su Facebook. Ti veniamo a prendere a casa, una delle frasi apparse tra i commenti di una diretta Facebook del primo cittadino. Respingiamo questi vili atteggiamenti fiduciosi che le forze dell'ordine troveranno e sanzioneranno il soggetto reo di questa azione, tanto più in un momento delicatissimo di emergenza come quello che stiamo attraversando. Siamo consapevoli della difficilissima condizione attuale di molti nuclei familiari ma ciò non può e non deve giustificare atteggiamenti minacciosi e violenti di alcuni che devono essere marginati e severamente condannati. La nota è firmata dal Presidente della Commissione Gianluca Bruzzaniti e dai consiglieri Adornetto, Aiello, Doro, Falcone, Mannella, Mazza, Petrantoni.